disciplinare della censura e questo è. Quindi il consiglio di distrittuale si troverà davanti e qui applicerà la censura. Salvo dovesse ritenerlo caso meno grave può portarsi, essenzialmente l'articolo 22, ad applicare l'avvertimento. La violazione di dovere di cui i comma 6, 7, 8 compota applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'edità professionale da sei mesi e un anno. Ecco sono tutte così. Quindi per ogni condotta è prevista una sanzione. Questa è la struttura, diciamo, del nuovo codice deontologico. Io dovrei parlarvi anche, al di là di questo, del procedimento disciplinare, però considerato l'ora, sono le 5, mi sembra che voi, il vostro, mi fermerei anche perché non credo che sia... Se vi interessa io vado anche un po' sul procedimento disciplinare, diciamo, proprio sull'analisi della normativa, ma credo che il vostro credito... Quella questione è sulla retroattività e retroattività. Sì, ne abbiamo parlato stamattina, diciamo questo, ecco potremmo fare un avveggiamento di questo genere, per non tediarvi. Fare un discorso generale di questo genere, senza andare singolarmente sulle singole nove, che sono le 5 un po'... Allora, diciamo che adesso, come adesso, il procedimento disciplinare prevede, questo può essere interessante, è iper garantito, è iper garantito, quindi possiamo stare tranquilli perché abbiamo tanti momenti di difesa nel procedimento disciplinare, no, davvero. Addirittura, secondo me, è anche ipertrofico, detta proprio... Comunque, perché poi consente... Comunque, c'è un primo momento di difesa che è nel momento in cui arriva l'esposto al collega, che ha 20 giorni di tempo che fa una memoria difensiva al Consiglio Distrittuale. Poi c'è un primo momento di valutazione che è solo del Presidente, del Presidente del Consiglio Distrittuale Disciplina, no, del Presidente, che propone al Consiglio l'archiviazione per manifesta in fondatezza allo stato degli atti. Poi il Consiglio vota nell'Assemblea Generale, però già c'è questo passaggio. Se il Presidente del Consiglio Distrittuale non individua nell'esposto uno dei casi in cui richiedere, poter richiedere la manifesta in fondatezza, trasmette, qui c'è la grande novità, no, la terzietà dell'istruttore rispetto al decidente. Trasmette, nomina una sezione che è composta da cinque membri effettivi e tre supplenti e all'interno di quella sezione un istruttore. La figura di istruttore è fondamentale ed è quello a cui arrivano, diciamo, via mail, certificata, gli atti, no? Perché l'istruttore in questa prima fase, quindi non è stato archiviato nel manifesto in fondatezza, il Presidente nomina la sezione, individua un istruttore e manda gli atti del procedimento. È una fase pre-istruttoria. In questa fase il Consigliere di istruttore ha amplissima libertà. Può sentire, non chiamiamolo ancora incolpato, perché non c'è un capo di incolpazione ancora, chiamiamolo il collega raggiunto dalle sposte, non so come dire, possiamo definirlo, fra virgolette, incolpato, ma può sentire dei testi, acquisire dei documenti, il collega può difendersi, può chiedere di essere sentito nei 30 giorni. Alla fine di questa attività, che dura, è previsto con termini di renatorio, sei mesi, l'istruttore fa una proposta alla sezione. E qui c'è un grande elemento di novità, perché il decidente, cioè la sezione decide senza l'istruttore. Una volta, quando mi facevamo i procedimenti disciplinari, io ero istruttore del procedimento disciplinare di Claudio Previdi, andavo in Consiglio dell'Ordine, il Consiglio dell'Ordine è tutto seduto intorno al tavolo tondo, io dicevo, e facevo la mia relazione, ma c'evo anch'io. Poi quando si decideva, anzi, allora gli istruttori ti guardavano e poi dicevano, tu Robby, ho detto io stavolta, tu Robby cosa ne pensi? E poi, è chiaro che il Consiglio decideva. Adesso l'istruttore, alla fine dei sei mesi, manda una proposta che può essere o di approvazione di un capo di incolpazione o di una richiesta di archiviazione. Il collegio, la sezione si chiama, costituita ad hoc, senza componenti dell'Ordine del collega, ovviamente, può decidere se approvare il capo di incolpazione, se rigettare la richiesta di archiviazione e approvare il capo di incolpazione, può decidere di modificare il capo di incolpazione, quindi la sezione decide in questo modo. E questa è la prima fase che si chiama pre-istruttoria. Finita questa fase pre-istruttoria, la sezione, se decide di dare impulso, è lì che inizia l'azione, cioè lì c'è la formulazione del capo di incolpazione che l'istruttore ha proposto, nella fase pre-istruttoria, la sezione lo prende, lo fa suo, lo mette, approva il capo di incolpazione e viene notificato, questa volta sia l'incolpato, ed è qua che il collega diventa incolpato. Ma non è ancora finita, perché questa è la fase istruttoria, quindi c'è stata la pre-istruttoria, poi dopo c'è l'istruttoria, nella quale l'incolpato può chiedere di essere sentito, produrre, adesso io dico così perché sono stanco anch'io, può chiedere di essere sentito, produrre documenti, indicare testimoni e l'istruttore può fare tutte queste cose. Alla fine di questa fase, pensate che questo è un po' ipertrofico, alla fine di questa fase l'istruttore chiede alla sezione un'altra volta, o l'archiviazione, o la emanazione del decreto di citazione, chiamiamolo del decreto di citazione, all'udienza dibattimentale. La sezione a questo punto decide, se decide che effettivamente è fondata l'incolpazione, io credo che, poi dopo vi dico una cosa mia che ho pensato in questo anno, mi sto lavorando in queste cose, se poi decide di mandare a giudizio, si svolge finalmente le sedute, il procedimento disciplinare davanti alla sezione dove vengono sentiti i testimoni, eccetera, eccetera, via risparmio, le regole, sono le regole però anche qua cambiamento, non più del codice di procedura civile, ma del codice di procedura penale, quindi si applicano i sette giorni prima per le liste testimoniali, poteri ufficiosi del collegio, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine dico io, se Dio vuole, si arriva ad applicare una sanzione, o il procedimento, però mi chiedo e vi chiedo, è la riflessione che ho fatto, ma alla fine di tutto questo, cioè se io sono l'istruttore e ho pensato che ci fossero ipotesi di leggi disciplinare, poi qua siamo in 45, non è che su questo, vero Sandra, c'è stato molto confronto, io mi regolo in un certo modo, cioè io vado a cercare, anche se sono nella fase per istruttoria, io ascolto il collega, acquisisco documenti, cioè, quindi se mi faccio un'idea, la mia fase per istruttoria è molto istruttoria, alla fine, e allora, se poi alla fine chiedo la professione del capo di incolpazione, e il capo di incolpazione, diciamo, la sezione me lo approva e mi manda il collega a giudizio, devo dire che effettivamente è molto costruito. Devo anche dire che molti colleghi, ho sentito che la fase per istruttoria la prendono proprio della serie, io ho l'esposto, un esponente ha detto questo, l'incolpato dice a, se l'esponente non prova tanto, io chiedo l'archiviazione e vado via, cioè, la sente molto, oppure se ho un fumus mando avanti, poi ci penserò poi nella fase successiva. Però è ipertrofico un po' questo, devo dire sinceramente. Comunque, questo è la cosa che, poi dopo ho veramente finito, questo è sostanzialmente però a grande linea i procedimenti disciplinari, così, non è che... Vi do un dato, a me piace dare i numeri di queste cose qua, ci sono, quando abbiamo iniziato l'1 gennaio del 2015, c'erano 1380 o 92 procedimenti disciplinari pendenti che erano arrivati dai consigli degli ordini territoriali al consiglio distrittuale e disciplina. Questo perché certi ordini, e qua rivendico la bontà del lavoro fatto da Modena, quando hanno saputo che c'erano i consigli distrittuali e disciplina che stavano per essere formati, sono fermati a fare i procedimenti disciplinari. Il risultato è stato che sono arrivati da Bologna 500 procedimenti disciplinari che sono l'incarico, adesso ci stiamo dividendo e dobbiamo smaltire, non è poco. Le sopravvenienze dall'1 gennaio del 2015 a marzo del 2015, quando siamo trovati l'ultima volta, era 350-380, quindi alla fine, questo per dire che poi alla fine la maggior parte dei nostri colleghi sono colleghi in gamba, insomma, questo per dire, no? E un'ultima cosa che vi volevo dire è questa, chiudo anche questa parentesi, è l'applicazione, perché ne avremo per un po', l'applicazione, l'articolo 65 della legge professionale prevede, anche qui mutuando dall'articolo 2 del codice penale, che se uno stesso fatto è, diciamo, giudicato meno, diciamo sì, giudicato dal legislatore, insomma, del codice tenutologico meno grave rispetto al precedente si applicano anche le norme, in quanto più favorevoli, diciamo, all'incolpato. Quindi noi, questo è un problema che abbiamo, che stiamo giudicando molti, ovviamente, procedimenti disciplinari per fatti commessi prima dell'entrata in vigore di questo codice tenutologico, no? Quindi c'è questa possibilità. Ricordatevi però che la prescrizione, ma non vi tedio sulla prescrizione, vi do solo questo dato, invece considerata norma non di natura sostanziale, ma di natura processuale, avendo a che fare con l'esercizio dell'azione disciplinare, si applica in relazione al periodo in cui è stato commesso. Quindi vecchia prescrizione per i vecchi lecidi odontologici, nuova prescrizione per i nuovi lecidi odontologici. Tenete presente che è molto più favorevole la nuova prescrizione, perché con le interruzioni non si va oltre ai 7 anni e mezzo. Grazie, ho finito. Ragazzi, pare che abbiamo finito. Allora, se ci promuovete compilando bene, se poi ci danno l'autorizzazione ci richiamano, ci vediamo l'ultimo venerdì novembre dell'anno prossimo. Guai a chi manca. Buona serata a tutti. Con questa ci promuovono.